Salve a tutti io sono Tiziano e benvenuti e ben ritornati anzi nella serie Cartoon Universe allora come potete vedere la parte 3 è cambiato diciamo tanto ma neanche che ho aggiunto così tanto come vedete ma la parte più bella ragazzi è questa guardate qui allora prima di spiegarvi come funziona cioè già l'avete capito voglio dirvi che qui l'altra volta era interrotto e non sapevo cosa farci cioè ve l'avevo detto però ero indeciso ho deciso di farlo e come vedete dovrò ancora metterci i cartelli ma vedrete poi nella parte 5 e quindi dovevo metterci i cartelli in questa strada porta dove vedete ho detto che i miliardari fanno queste cose qua che gli asta io vorrei fare dovrei trovarci un nuovo e nel prossimo episodio vi dirò come l'ho chiamato allora vi spiego il processo come ve l'ho già fatto vedere nella parte 3 la macchina sale fa anche questa canta più bella del beat up dell'altra volta va di qua che l'altra volta viene interrotto e trova il cartello che dice voi lo leggete ma vi metto di qua parcheggio riservato ai miliardari che vogliono comprare auto se qui dentro ci fosse un miliardario che già c'ha la macchina super e vuole comprare un'altra che faranno l'asta qua si parcheggia ma mettiamo che questa è un'auto che c'è un signore dentro che non è il proprietario la sta portando qui per fare l'asta quindi prosegue questa strada e ragazzi questa strada verrà percorsa soltanto dai signori che portano la macchina al parcheggio per l'asta ma da nessun proprietario dell'auto questa strada sarà la strada che verrà percorsa solo da chi avrà acquistato una delle auto che saranno parcheggiate qui ho fatto qualche errore però ho sistemato allora questa strada vorrei nella parte 5 te lo farò vedere porterà acqua capito? ah e ragazzi scusatevi tanto se non sono riuscito a fare la rotonda all'anno ero impegnato in questa cosa che ci tenevo di più della rotonda perché beh dovremmo pure capire cosa dovremmo collegare con la rotonda allora la macchina è qui la chiamano quindi cosa fa? sale la salita arriva qua si mette sopra comunque ragazzi per farlo girare ho usato una vite questo buono non so perché l'ho messo era per reggerlo tipo a terra ma poi niente allora cosa si fa? qui c'è la levetta sulla pili e la fai girare piano piano ovviamente è messa piano piano perché là quando la presentano questa miglia gira veloce 100.000, 200.000, 3 miliardi venduta scende si mette qua e accetta che e poi vorrei fare che tipo questa è la parte dove stanno le auto già vendute questa è quella dove ci sono quelle ancora che devono essere vendute e ecco qua attiviamo il proprietario qua nel proprietario la pili se ne vanno l'auto e torna qua questo è il processo ragazzi poi ho montato anche qualsiasi attraverso il stato di proprio saccadone e allora poi ho messo una curvetta qua tipo ma che non lo attaccherò ovviamente e quindi qui c'è il cancello con il processo ve lo voglio farvi vedere perché il processo la parte 2 e la parte 4 vorrei farlo solo un minuto la macchina segue arriva qua con il mio metodo non scivolare e poi quando esce ritorno non si non si non si scusate non si stava accenando vedi il cartello mostra il manino ma non è che ci interessa tanto arriva qua oh si stava accenando arriva qua gira va di qua come vi avevo detto nella parte 3 se vuole andare a mostri se vuole andare a cartoncini dovrebbe andare di qua però noi dobbiamo fare il processo la mandiamo di qua stavolta non andrà verso la direzione di cartoncini ma ancora che non l'ho costrita però non crede che bisogna fare voi ci vedete cosa cavolo tempo lo spiego ve lo spiego queste servono perchè sono tipo come si chiamano come si chiamano quelle cose in alto ah vabbè sono tipo quelle cose là dove si fa il telepass dove si fa il biglietto per l'autostrada ecco io non l'ho messa all'inizio perchè non c'era spazio allora ho deciso di mettere le spazio e quindi qua tu parli non lo vedete sicuro ma questa dovrebbe essere tipo una mazzetta di qua non l'ho fatta perchè questo è il telepass qua ci devo allargare perchè non ci passano nulla e ragazzi qua non ho preso bene le mie flune infatti vedete che c'è pochissimo ma lasciando tagli e tagli infatti qua l'ho lunga poi giro di qua e tutto ragazzi io infatti guardate là ho un'altra tavola di cartone molto grande perchè era finita ormai quella la quella la con cui ho anche usato fare mostre monstermania che però oggi non ho portato i monster truck e per quanto ragazzi ve lo assicuro ci sarà il video dove vi farò vedere tutte le mie macchinette e tutto e il resto come vuoi un monster truck vedete questa è un'altra delle mie preferite che è un camion e allora ragazzi da tutto questo macello io mi saluto ci si vede comunque vi devo dire una cosa allora ho deciso così che ogni domenica caricherò un video della serie Cartoon Universe ci si vede ciao e aspettate non so se è un vero ciao però per adesso vi devo ciao anzi ciao no perchè avevo paura che poi si affacciasse Francesco che però non si affacciato stranamente deve affacciarsi comunque credo che lui volesse dire vi volesse salutare ragazzi e ciao Francesco perchè non ti sei affacciato dopo la prossima volta che ci vediamo me lo dici bella fra e bella a tutti ciao e grazie a tutti ragazzi se l'avete sentito ha detto buona domenica delle palme e noi non so se lo vedete come l'altra volta ma lì ci sta Francesco e si vede pochissimo pure sua sorella piccola che stanno tutte e due la alla finestra dell'altra volta come vi ricordate vi auguro buona domenica delle palme era l'unica cosa che infatti ve lo auguro pure io buona domenica delle palme chi vede la faccetta della sua sorellina perchè lui ha tre fratelli allora quindi sono quattro famiglia e bambini Francesco sua sorella ha due sorelle una più grande Laura Miriam la più piccolina e poi oddio c'è un gabbiano col cibo in bocca e poi il fratello che è più grande delle due sorelline ma è più piccolo di Francesco che ha 7 anni è Emanuele poi Francesco correggimi tu se me lo dici nel prossimo video se aveva 8 anni ciao Francesco vedo pure tua sorella spero che l'abbiate visto fine video ciao